Voglio raccontarti una storia. C'è un paese in Africa devastato da dieci anni di guerra civile. Qui tre quarti della popolazione vive con meno di due euro al giorno, qui un bambino su tre è denutrito, qui Emergency ha aperto un ospedale che ha offerto cure gratuite a più di 300.000 persone. Ora quell'ospedale ha bisogno di crescere. Se vuoi che questa storia continui, hai tutti i numeri per farlo. Con l'invio di un SMS al 45506 donerai due euro all'ospedale di Emergency in Sierra Leone.